Non siamo davanti a una curva che sta flettendo e quindi a una remissione dell'infezione, questo è poco, ma sicuro. Il contagio c'è, i ricoveri anche, le previsioni si confermano, la variante Delta si può gestire e si sta gestendo, ma l'estrema variabilità delle soglie di pazienti nelle terapie intensive del Veneto costringe a restare estremamente vigili. Comportamenti ai vaccini, le armi di sempre, ma il Covid si può battere anche con gli anticorpi monoclonali. La lotta su questo fronte va avanti e vede un'impennata di trattamenti nell'ultima settimana, 109, con un obiettivo. Il target per noi, secondo i nostri calcoli, dovrebbe essere di 220 pazienti alla settimana. Un'accelerazione dovuta anche a recente via libera di AIFA all'uso dei monoclonali non solo per i pazienti con fattori di rischio particolari, ma per tutti i positivi. Dati alla mano, degli 8.434 trattamenti effettuati finora in Italia, 1.167 riguardano il Veneto, seconda regione a livello nazionale. Finora si rilevano 738 casi chiusi, cioè persone guarite. L'89% non ha avuto bisogno di ricovero. Un farmaco ben tollerato, le reazioni sono state soltanto il 3% e molto lievi. Cruciale la spinta della regione per il forte coinvolgimento dei medici di base che individuano i pazienti candidati al trattamento. La segnalazione del medico entra in un portale, viene registrata in uno degli 11 centri specializzati in Veneto. Infine c'è la somministrazione del farmaco, fatta in ambulatorio ospedaliero in un paio d'ore. Un'arma in più, oltre alla vaccinazione, sulla quale Zaia invoca ancora una volta l'intervento forte del governo in tema di comunicazione, perché nel 20% dei veneti ancora senza immunizzazione, al di là dei no-vax irriducibili, le anime sono diverse, una in particolare. Chi ha paura di vaccinarsi? E la paura è un sentimento umano che va rispettato, ma la paura va anche informata. Cioè, siamo davanti a un governo che non sta informando i propri cittadini. Quindi io penso che la pubblicità progresso è istituzionale, ma non di dire vai a vaccinarti, spiegare che cos'è il vaccino, poi ognuno in un ambito di volontarietà decide cosa fare. I cinque punti di proposta al Premier su vaccini e green pass stilate dalla Lega sabato nella videoconferenza tra Salvini e governatori del Carroccio sono, nero su bianco, le stesse proposte che aveva già avanzato Zaia. Insomma, senza troppi giri di parole, ha vinto la sua linea, in attesa della cabina di regia di giovedì, anche sul fronte degli uffici pubblici come quelli della Regione. Staremmo a vedere, certo è che se ci sarà un provvedimento noi lo faremo rispettare. E il dibattito coinvolge anche la scuola. Al di là di docenti e personale scolastico, ipotizzabile a breve termine un green pass anche per studenti di scuole medie e superiori? Per Zaia no. Prevedere un green pass per andare a scuola vuol dire venire meno all'obbligo scolastico e alla volontarietà vaccinale, se prendiamo il caso estremo di uno che non si è vaccinato, no? Quindi ho l'impressione che sia molto articolata anche dal punto di vista giuridico da sostenere una cosa del genere, perché siamo davanti a un obbligo scolastico che non prevede l'obbligo della vaccinazione, ma la volontarietà della vaccinazione.